Poco fumo e un po' di arrosto per favore Aghinelli e Gamorrini, fino ad ora hanno preso in giro non me, non Arezzo in Comune, ma hanno preso in giro tanti inquilini di quella zona. Maroni può rimanere in Lombardia e potrebbero invece fare qualcosa direttamente loro. Ci va giù duro, Francesco Romezzi, consigliere comunale di Arezzo in Comune, sull'annunciata rimozione del tetto inamianto del complesso popolare di via Malpighi. Nell'ultimo consiglio comunale l'annuncio da parte dell'assessore ai lavori pubblici Gianfrancesco Gamorrini della possibile realizzazione dell'opera, costo 400 mila euro. Finanziamenti, dice Arezzo in Comune, che non sono stati stanziati dall'ente, ma che sono previsti che arrivino dalle casse di Arezzo Casa. L'ultimo consiglio comunale Gamorrini fa una furberia politica, porta una variazione al piano triennale inserendo alcune centinaia di migliaia di euro per l'intervento, purtroppo senza la copertura economica, perché non sono risorse del Comune ma sono fantomatici proventi di Arezzo Casa. Che significa? Nulla. Significa che l'intervento il Comune di Arezzo non lo farà. Per fortuna però nel frattempo è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture, quindi il Governo che ha destinato ad Arezzo Casa diverse centinaia di migliaia di euro e Arezzo Casa invece con questi soldi potrà fare l'intervento nel 2018. Una richiesta però, una richiesta affinché l'intervento possa essere fatto, che il Comune a dicembre nel prossimo consiglio comunale porti quantomeno quegli 80 mila euro necessari per compartecipare, in quanto inquilini dell'immobile, l'ex circoscrizione e il centro sociale, all'intervento stesso. Logicamente come in un condominio normale bisogna tutti mettere la quota, impegnarsi a mettere la quota. Quindi il Comune si potrà impegnare mettendo a bilancio. Quindi nel bilancio preventivo ci deve mettere adesso 80 mila euro, prima possibile, perché se non ce li mette logicamente ritarderà, influirà negativamente sull'operatività di Arezzo Casa. Quindi è il contrario di quello che è stato detto, cioè i soldi veri vanno messi ma per darli ad Arezzo Casa. C'è di fatto una presa in giro di tutti i cittadini che lì ci vivono, che ogni giorno hanno a che fare con l'amianto. È un anno che in quella zona c'è stata la polverizzazione dell'amianto a seguito dell'evento naturale. Avevamo trovato una soluzione, c'è stato risposto di no. A distanza di un anno si ritira fuori il nuovo coniglio dal cilindro. E come tutti i conigli dal cilindro è un'illusione.